E ciao a tutti amici, io sono Tom Cruise E vabbè, un errore di battitura ci può stare, dai Oggi vi faccio vedere quello che c'era presente nella versione DaVinci Resolve Studio 18 che per errore era stato inserito anche nella versione Free sto parlando del Voice Isolation e andiamo a vedere come ci può sopperire nella versione gratuita che appunto non ce l'ha Cos'è il Voice Isolation? Io ho inserito una clip qui, utilizzo sempre la stessa cioè qua c'è molto rumore di fondo E qua si può notare proprio l'erosione Ok, quindi in DaVinci Resolve 18 Studio andando su Audio abbiamo questo Voice Isolation che attivato andrà a eliminare qualsiasi rumore Andiamo a sentire E qua si può notare proprio l'erosione Pensate che io lo utilizzo tantissimo in alcune interviste per eliminare rumori di fondo di persone che parlano o tossiscono qualche cellulare che suona o alle volte proprio perché non c'è il microfono su riprese magari più ammatoriali e sembrano le persone proprio microfonate è eccezionale però appunto questa voce è solo nella versione Studio Come fare? Allora per piccole cose ad esempio anche l'intervista così fate riferimento a questo sito che avevamo già visto VocalRemover.org e che io vi ho fatto utilizzare per andare a rimuovere la musica o il vocale da una canzone per poter fare il karaoke Bene, con lo stesso sito online gratuito potrete fare la stessa cosa anche su un'intervista ma invece di rimuovere la musica rimuoveremo tutti i suoni di sottofondo La cosa molto piacevole è che possiamo andare a aprire direttamente il file video senza bisogno di separare l'audio in Da Vinci Resolve quindi guardate apro la cartella vado all'interno della cartella ovviamente non vedrò perché questo sta puntando a file tipo audio quindi faccio tutti i file e a questo punto vedo anche i file video apriamo lo stesso file che è questo qui non abbiate paura se anche c'è il video vedete che il caricamento avviene lo stesso e l'intelligenza artificiale distingue anche la parte audio e quindi parte con l'elaborazione audio in base alla lunghezza del file starà più o meno tempo e ecco qua separato quello che sarà scritto musica in questo caso invece saranno i rumori di fondo quindi ci basterà abbassare il rumore di fondo e alzare quello che è il vocale andiamo a sentire e qua si può notare proprio l'erosione andiamo a salvare quindi solo vocale io lascio lo stesso nome così lo trovo facilmente mi porto in Da Vinci Resolve e vado a importare il file aperto il file mi è sufficiente trascinarlo in una traccia audio premo Alt e premo la traccia originale e con Backspace la elimino vado a sostituire siccome hanno la stessa durata non devo fare una sincronizzazione andiamo a sentire e qua si può notare proprio l'erosione dovuta all'acqua adesso qui c'era molto eco perché eravamo appunto all'interno di un canyon diciamo quasi e quindi invece se voi lo farete con un materiale un'intervista o cosa il risultato è perfetto bene ovviamente ci saranno anche altri siti altri servizi che fanno questa funzione questo è quello che c'è stato io a parte appunto l'eco che non lo rimuove ma come avete visto come riduzione del rumore è molto buona ci vediamo al prossimo tutorial mi raccomando ricordatevi di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella e alla prossima ciao bene questo è tutto grazie a tutti